Questa base è disponibile in qualsiasi tonalità senza alcun deterioramento. Richiedi la base in alta definizione e senza interruzione al numero a destra nel video. Trova il tuo genere preferito cliccando su Playlist. Puoi richiedere qualsiasi tipo di arrangiamento. Ricorda che la qualità delle basi che finirò è molto superiore a questa demo. Grazie. Grazie sulla parola altro, sotto al titolo, per ascoltare le altre versioni di questo brano. Grazie. 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 Grazie.